io sono una persona normale le mie giornate iniziano come quelle di tutte le persone normali come me con gli alti e bassi di sempre più bassi che alti a dire il vero poi succede qualcosa che trasforma completamente la mia vita l'importante è farsi trovare pronti alla prossima sfida grazie